Eccoci allora, siamo in diretta dal santuario di Nostra Signora Dalla Cruz. Con me c'è l'uomo che probabilmente oggi è più contento, perché è il postulatore, lo conosceremo anche più avanti, padre Thomas Georgion, di questi 19 nuovi martiri algerini che tra poco saranno beatificati qui, in questo splendido scenario che guarda Orano e simbolicamente, potremmo dire, getta uno sguardo su tutta l'Algeria. Un luogo amatissimo non solo dai cristiani d'Algeria, ma anche dai musulmani. Padre Georgion è la persona che ha portato questi martiri fino ad oggi, ha seguito la loro causa, è il postulatore ed oggi naturalmente vede il compimento di questa grande fatica anche, perché ha dovuto analizzare, studiare 19 vite, 19 avventure spirituali, 19 martiri. Sì, è il compimento di una prima tappa, perché ce ne sarà un'altra, speriamo, con la canonizzazione e magari ci rivedremo in San Pietro. Oggi siamo ad Orano, è una gioia immensa, non così per il lavoro compiuto, ma vedere l'accoglienza che ci è fatta. Questa mattina siamo stati tutti ricevuti nella grande moschea di Orano, un'accoglienza bellissima e un scambio di parole, di pace, di fraternità. E ovviamente oggi vedere i membri delle famiglie dei 19 che sono qui con noi, anche le famiglie religiose. E ieri qualcuno mi diceva, ma è un po' strano perché tutti sono gioiosi. Oggi celebriamo la vita, non celebriamo la loro morte, celebriamo la loro vita donata a Cristo, donata al Vangelo e donata al popolo algerino e al paese. E poter celebrare in questo quadro incredibile di Orano, nel santuario della Madonna, il giorno in cui celebriamo la Madonna, è un dono del cielo. Un dono come le vite di questi uomini e di queste donne, perché lo ricordiamo, forse è passato molto il messaggio di Tiberin, la drammatica vicenda dei monaci trucidati nel 96, forse è più conosciuta la storia di Monsignor Claveri, che era proprio il vescovo di questa città, che è la seconda città del paese. Però ci sono altri sacerdoti religiose consacrate che nel silenzio e nell'umiltà hanno deciso di rimanere negli anni bui per l'Algeria, il decennio del terrorismo e hanno deciso di donare la loro vita. Lei ha detto che è un giorno di festa ed è stata anche una grande gioia per tutto il paese, ne abbiamo avuto la testimonianza stamattina, ne parleremo tra poco, però sicuramente anche un momento d'orgoglio della piccola, anzi piccolissima chiesa d'Algeria. Non penso che sia un momento d'orgoglio, penso che questa celebrazione rappresenta per la chiesa di Algeria un incoraggiamento nel suo modo di essere chiesa in un paese musulmano, vedere tutti i sacerdoti, le religiose, i laici che lavorano qui a Dorano, ad Algeria o altrove nel paese, vedere che oggi è dei religiosi, delle religiose che hanno vissuto in Algeria vent'anni fa e che hanno fatto lo stesso lavoro che fanno oggi, sono riconosciuti non tanti come, sì oggi sono beati martiri, però ancora una volta celebriamo la vita donata, cioè non la morte, e spero che ci possa dare uno slancio per la chiesa in Algeria e anche nei rapporti con i fratelli musulmani, non solo a Dorano, non solo in Algeria, ma magari anche altrove, almeno è il sogno nostro. Già il primo miracolo è il tempo, oggi proprio bello, e poi il secondo miracolo è di poter condividere questa celebrazione con voi che siete in Italia, con quelli che guarderanno in Francia o altrove e poi di vedere tanta gente che sarà qui a Dorano. Infatti Nicola dobbiamo dire che qui oltre ai familiari delle vittime, oltre naturalmente alle congregazioni religiose, lo ricordiamo erano otto le congregazioni che hanno dato questi fratelli e queste sorelle alla terra d'Algeria, ci sono anche tantissimi imam, ci sono tanti musulmani, questa è veramente una celebrazione di festa per l'intero paese, per un intero popolo, che riconosce queste vittime come sue vittime all'interno di quello che sappiamo è stato un vero e proprio genocidio, oltre 150.000 persone che hanno perso la vita durante gli anni del terrorismo nello scontro tra islamisti e giunta militare. Naturalmente di tutto questo vi parleremo, vi restituisco la linea e lasciamo andare Padre Giorgio. Grazie.